Numero 5, Christopher Rivelo, numero 8, Jimmy Rivelo, numero 9, Jose Vera, numero 10, Darlington Lago, numero 12, Geoff Rivelo. Vedete si può tirare direttamente in porta, quindi soprattutto dalla... noi non avremo... Saranno... 35 metri. Tiro non irresistibile. Subito avanti, Bullasport, e va subito in gol. Sono passati... 20 secondi dall'inizio, al primo a fondo. Vediamo. Ecco, abbiamo dei problemi adesso sulla diretta. Quindi... siamo già... 1 a 0 dopo 20 secondi. Abbiamo già... si, si, si. Abbiamo già dei problemi qua. Guarda, guarda. 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 1-1 la partita dopo un minuto e mezzo di gioco siamo già abbiamo già visto due gol 1-1 è il risultato forse abbiamo invertito brava Junior No, 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 no No, 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 no Purtroppo abbiamo delle difficoltà a darvi la diretta, vi daremo la differita No, 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 no E raddoppia adesso l'Equasport ribalta il risultato dallo svantaggio iniziale, siamo a 5 minuti e mezzo Del primo tempo, 2 a 1 E' il numero 20 Quindi 2 a 1 a 5 minuti e mezzo del primo tempo Dopo 20 secondi il vantaggio iniziale della squadra della Bullasport Poi subito pareggiato dopo un minuto Purtroppo abbiamo delle difficoltà a darvi la scuola iniziale, siamo a 5 minuti e mezzo del primo tempo Purtroppo abbiamo delle difficoltà a darvi la scuola iniziale, siamo a 5 minuti e mezzo del primo tempo E' il numero 7 in maglia bianca Bamba Farras Che dai là a tutte le azioni offensive dell'Equasport Adesso è il numero 2 che cerca di cambiare gioco sulla sinistra, passaggio impreciso Si perde il fallo laterale, il pallone per la rimessa in gioco del Bullasport E' pareggia adesso Bullasport dopo 7 minuti e 40 secondi di gioco Con un sinistro velenoso che si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere, il numero 13 Cambia ancora il risultato, 2 a 2, c'è un'altalena di gol No, è il numero 23, scusate Peretti Edoardo Pariggiato per il Bullasport Ancora il numero 7 dell'Equasport in maglia bianca Che tenta un tiro, ha colpito malissimo la palla Pallone che finisce Un fallo laterale per la rimessa con le mani sulla destra della zona difensiva Recupera il pallone all'altezza dell'area l'Equasport Però non lo sfrutta a dovere, poteva essere un'azione pericolosa Purtroppo vi daremo la partita registrata, integrale, completa Perché la diretta ha qualche inconveniente tecnico E quindi noi non possiamo adesso intervenire proprio perché la partita è in corso Terzo gol Quindi adesso sorpasso del Bullasport Tiro che dall'alto in basso finisce Vediamo È sempre il numero 23 se non sbaglio Implacabile sotto porta Vediamo No, scusate, devo correggere il numero 9 Pizzamiglio Luca Grazie Quindi 3 a 2 Partita ricca di gol Ma soprattutto Qua bellissimo ancora 3 a 3 Non facciamo in tempo ad aggiornare il risultato Che ancora numero 7 Bamba Farras A riportare la partita in parità 3 a 3 Quindi O le difese o gli attacchi hanno Lo piazza questo tiro Lo vede proprio 3 a 3 Partita apertissima Dopo 11 minuti di gioco Adesso c'è una discussione Per un calcio di punizioni Quasi un calcio d'angolo Sulla destra Nella zona di attacco della Bullasport Vediamo se calcerà direttamente in porta No, tocco indietro Tocco corto Si prepara molto bene la conclusione Si accentra con il sinistro Poi calcia di sinistro Però colpisce male Pallone che finisce fuori Partita però che Ha sempre delle Conclusioni interessanti Anche questa Però il risultato è ancora In parità 3 a 3 Quindi non c'è una squadra Che riesce A prevalere sull'altra C'è un equilibrio Soprattutto in fatto di gol Mette un pallone in mezzo Bellissimo ancora Arriva in ritardo Il difensore Il numero 6 E colpisce in pieno L'avversario Che aveva anticipato Il tentativo di spazzare Del difensore Finisce a terra Altro calcio di rigore Il secondo Però al tredicesimo minuto Del primo tempo Poi ha visto siccome abbiamo vinto Mi sento un 4 gol di scarto Dopo Aveva l'imbarazzo di Pischiare Vediamo che ha ancora Sul Sul dischetto Del rigore La palla Per portare in vantaggio No Non è rigore Ha dato una punizione a 2 Quindi non è calcio di rigore Ma è fuori area Allora È ancora il numero 7 Posizione però favorevolissima Tutta la porta davanti Vediamo E poi la piazza Molto bene Proprio Sul lato scoperto Del portiere 4-3 per l'FC E per poi Quindi 14 minuti di gioco Un susseguirci di Di gol Terzo gol per il numero 7 Scusa Andiamo 01 No Quindi Come Allora Come Come Grazie a tutti. 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 Uno sul primo. Mezzo. Buongiorno. sempre 4-3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. al vento. e a tutti. e a tutti. una semifinale. tutto sommato. per la squadra. 5-4. al vento. fa fa tutto. la partita. la partita. la partita. la partita. la partita. la partita. mette in parità. la partita. 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 la partita.